Ciao ragazzi, siamo su Accademia di Fantacalcio, sono Pierre e oggi parliamo di minestre riscaldate. Ma che cavolo è questa? Non è calcio? Invece sì, cosa si intende per minestre riscaldate? Si intende quando un allenatore, dopo un'esperienza di varia qualità su una panchina, ci ritorna. Prendo spunto dal fatto del ritorno di Paglio Ranieri alla Roma, che ha iniziato con una vittoria, e di ipotetiche ritorni di Conte all'IU e Mourinho all'Inter, eccetera, eccetera. Insomma, la domanda è funziona o non funziona? Conviene o non conviene? Allora oggi vediamo tre esempi e poi decideremo se è funzionato o non ha funzionato. Cioè, spesso capita che una squadra richieda i servizi di nuovo da un vecchio allenatore. Vi porto tre esempi. Partiamo dall'esempio molto antico, e cioè Elenia Herrera, che ha inventato in pratica l'allenatore nella storia, dando un'importanza superiore ai giocatori. Nel 60 ha vinto tantissimo con l'Inter, l'Inter di Mazzolo, di Facchetti, Coppe di Campioni, eccetera, fino al 66 più o meno. Poi andò via, varie squadre, tra cui la Roma, tornò all'Inter nella stagione 73-74. con alcuni vecchi membri della sua grande squadra e altri giovanotti, diciamo così. Ma questa volta la minestra è scaldata, fu, diciamo, indigesta, perché stette in una sola stagione, neanche tutta, l'Inter alla fine arrivò ottavo o nona. Quindi, diciamo, in questo caso la minestra non ha funzionato, perché probabilmente aveva già dato il massimo, ed era un grande massimo. Quindi era difficile da ripetere. Secondo caso, anche questo abbastanza indigesto, quello di Fabio Capello al Milan, nella stagione 97-98, mi sembra, sì, esatto. Capello visse molto al Milan nei primi anni 90, il Milan degli invincibili, tra l'altro, senza sconfitte nel 93-94. Insomma, Van Basten, Rijkaard, Gullit, Evani, Lentini, Maldini, questo cuore... Vabbè, li conosciamo. Tornò a Milan nel 97-98, un Milan che veniva da una stagione abbastanza terrificante con Tabarez, prima e Sacchi, poi, anche lì, altro ritorno funesto. E, Capello, sappiamo, è stato un grande allenatore, però quella stagione in Milan, da i giocatori che si ritrovò davanti con Pippo Maniero, che è un giocatore di squadre medie e piccole, segnava tanto in quelle squadre, ma nel Milan fece tanta fatica, dei terzini un po' scadenti, come Coco, Reitzinger, un attaccante come Dugarry, che già erano prima, insomma, non aveva fatto benissimo, e, insomma, una squadra che veleggiò al limite della zona UEFA per poi non entrarci, quindi Capello, anche lì, non ebbe grandi risultati. Tra l'altro, cosa buffa, l'anno dopo venne zaccherone al Milan e con un po' di quella squadra vince un campionato. Quindi, evidentemente, in quel caso, il problema era del comandante in capo, quindi, penso, quando si torna in un club, non sempre sanno dei buoni effetti, però, per esempio, Fabio Capello andò al Real Madrid in due occasioni e in tutte e due occasioni fece molto bene vincendo un campionato. Quindi, poi, dipende anche un po' dalla situazione e dal clima che c'è, dalle tue convinzioni. Un altro caso, anche questo, abbastanza riscaldatino male, è quello di Roberto Mancini all'Inter. Siamo rimasti nell'ambito di Milano, ma spesso in queste due società è capitato questo ritorno e Mancini fu, diciamo, detto inizio al ciclo vincente dell'Inter, vincendo tre campionati, però, quando tornò, ha preso una squadra che subiva molto psicologicamente, ancora ricordo del triplete di Murigno, e non riuscì mai a decollare, né nel primo anno dove, subentrò a Mazzarri, l'Inter arrivò comunque all'ottavo posto, nonostante acquisti invernali come Podolski, Shaqiri, ma rimane sempre così, al limite della zona di Europa Limpia, scusate, come si chiama oggi. Certo, lanciò Mauro Riccardi, però non ebbe, diciamo, altre soddisfazioni. L'anno dopo, arrivò quinta e nonostante un grandissimo inizio, il campionato, e poi crollò clamorosamente, quindi, vedete, le minestre riscaldate, come dire, meglio, insomma, meglio evitarle in gran parte. Quindi, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, mettete like alla pagina, seguite la pagina YouTube e ciao a tutti!